Sicuramente c'è un altro aspetto che è molto importante oggi, che si lega più alla capacità di poter discernere fra informazione veritiera ed informazione falsa, diciamo, quello che viene chiamato il problema delle fake news. Oggi è sulla bocca di tutti ed è abbastanza noto che parecchi risultati, anche elettorali, sono influenzati dalla capacità di poter distribuire informazioni non veritiera sul mondo. Questa capacità è amplificata dall'utilizzo, direi anche quasi eccessivo, dei social media, che ormai hanno quasi, non dico soppiantato, ma sicuramente complementano il ruolo dei media tradizionali. Questa forma di caos semiotico che si è venuta a creare, anche da questa ipercomunicazione, da questa quantità di scambi di informazioni non più controllate e controllabili da un canale, ha fatto sì che la stessa democrazia venga messa in serio pericolo. Ora, come l'intelligenza artificiale può dare una soluzione a questo? Sicuramente i computer sono in grado di poter leggere una quantità di informazione, come dimostrato per esempio da Watson, il sistema che in cui io stico stesso ha fatto parte IBM, in tempi molto più brevi di quello che l'uomo riesce a fare. In pratica un computer può leggere un terabyte di news, si parla di l'intera produzione di tutti i giornali negli ultimi cento anni, in overnight, cioè in 12 ore. Questa capacità di poter leggere in modo simultaneo tutte queste informazioni e mettere insieme, aggregare le fonti, tracciare in qualche modo l'origine e la provenienza di queste fonti, potrebbe dare uno strumento di fact-checking, ma anche al cittadino comune per potersi accertare della verità in un modo più efficiente che andarsi a leggere migliaia di blog e possibili fonti alternative. Ora, io credo che questo problema non è ancora stato risolto. Sicuramente il problema è legato anche al comprendere il mondo. Il computer non solo deve essere capace di tracciare l'informazione, ma anche di dare un significato alle credenze, al network connesso di tutte queste informazioni che fa sì che un'opinione si formi attraverso gruppi e differenti punti di vista. L'etica è parte della soluzione, ma comprendere la natura umana, comprendere il modo in cui l'uomo oggi si rapporta al mondo, anche tramite queste tecnologie digitali, è una delle sfide dell'informatica. E credo che un posto come la Fondazione Bruna Chiesa possa dare una risposta, come la possono dare anche altri istituti, ma l'Italia ha sicuramente molto da dire.